Stare in casa è la prima regola. Tuttavia, come spiegato da Umberto Raimondi, docente di scienze motorie e sportive e tecnico dell'area sport e fitness, c'è modo e modo di farlo. Raimondi spiega che, anche se entro alle mura domestiche, è comunque importante svolgere un'attività fisica moderata, utile non solo a tenersi in forma, ma anche a fortificare l'organismo, riducendo così il rischio di contrarre il contagio. In questo periodo storico particolare, nel quale siamo costretti a stare in casa, è di fondamentale importanza mantenersi attivi, soprattutto per mantenere efficienti le nostre difese immunitarie. La ricerca scientifica ha evidenziato che una corretta alimentazione, ma soprattutto un costante esercizio fisico, permettono alle nostre difese immunitarie di potenziarsi. Quindi il consiglio è quello di ricavarsi un angolino nella casa e dedicare tutti i giorni una o due sessioni giornaliere di esercizio fisico. L'importante quindi è trovare almeno mezz'ora al giorno da dedicare al movimento, meglio se un allenamento proposto da specialisti. Online è possibile ed è anche gratuito. Lezioni di fitness tenute da coach da seguire in casa. È importante seguire un allenamento adeguato alle proprie capacità, non troppo difficile, e partire sempre con una fase di riscaldamento nel quale si va ad innalzare gradualmente la temperatura corporea e ad aumentare la frequenza cardiaca, per poi passare a una fase centrale nella quale si svolgeranno esercizi di potenziamento e esercizi aerobici, quindi cardiovascolare, e poi concludere con il defaticamente lo stretching.